Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Serie TV Italia. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Ciao cari amici di Serie TV Italia, oggi sono qui a portarvi una news che ha praticamente fatto esplodere Twitter. Vi siete mai chiesti cosa succede dietro le quinte nella vita delle nostre celebrità preferite? Bene, Maria De Filippi, la regina della televisione italiana, è al centro di una trama degna di un film. Immaginate un po'. Mentre era in coppia con il leggendario Maurizio Costanzo, Maria avrebbe avuto una storia d'amore segreta con un misterioso personaggio. Sì, avete capito bene. Questo bomba gossip è stata rilasciata dopo la scomparsa del grande Costanzo e ora la De Filippi sta alimentando il gossip con indizi che potrebbero preludere a una rivelazione pubblica. La cosa folle? Le chiacchiere su Maria e Costanzo, un pilastro della tv italiana, sono tornate a incendiare il dibattito pubblico. Tutti stanno cercando di unire i pezzi per risolvere questo enigma, speculando sulla natura di questo antico amore clandestino. E con la sua maestria nel tenere tutti incollati allo schermo, Maria C. ha già fatto impazzire nell'attesa di saperne di più. Il mondo dello spettacolo è sulle spine e io non vedo l'ora di scoprire i prossimi colpi di scena. State sintonizzati perché questa storia potrebbe svelare lati inediti della De Filippi che non avremmo mai immaginato. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di mettere un like, lasciare un commento e iscrivervi al canale Serie TV Italia per rimanere sempre aggiornati sulle notizie più interessanti del mondo dello spettacolo e delle serie tv. Un grande saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!